I'm Investor Day 2017, siamo qui con Marco Podini di Piteco. Buongiorno. Inizierai subito con vedere i risultati del 2016. Che anno è stato per Piteco in termini di risultati finanziari? Il 2016 è stato un altro anno buono per Piteco in linea con il nostro passato. Siamo cresciuti del 5% in termini di ricavi, ma siamo cresciuti del 31% in termini di utile netto. Questo è sicuramente il parametro più importante e interessante e quindi ci dichiariamo sicuramente soddisfatti, anche se ci aspettiamo nei prossimi anni una crescita sicuramente più accelerata dovuta all'espansione internazionale che sta giusto per iniziare. Ci parlava di espansione internazionale. In che direzione state guardando in particolare in questo momento? Oggi Piteco è leader assoluta nella sua nicchia di riferimento che è quella appunto della tesoreria e dei software applicativi in area finanziaria. e proprio per questo abbiamo da alcuni semestri, si può dire uno o due semestri, iniziato questo piano di espansione internazionale perché riteniamo che i software che forniamo ai nostri clienti in Italia e anche all'estero perché il software Piteco è già installato in 40 paesi al mondo, però sicuramente appunto finora siamo andati più al traino i nostri clienti italiani. Invece adesso l'intenzione è quella di vendere direttamente il nostro software alle tante aziende estere che appunto ancora non sono dotate di questo prodotto che è un prodotto, una serie appunto di software relativamente nuova e che ha un grande potenziale appunto di crescita sia in Italia ancora ma soprattutto all'estero. Oltre all'espansione sul piano internazionale ci sono altre novità per Piteco? Ma certamente perché proprio questa notte, anzi ieri sera a Mercato Chiuso abbiamo diramato un comunicato che appunto annunciava la firma di questa importante operazione di acquisizione che abbiamo effettuato negli Stati Uniti d'America dove abbiamo acquisito il 55% di Juneter Payments che è una delle realtà leader nel mercato americano nel settore dei digital payments e delle clearing house che collega più, insomma un network di quasi 4.000 banche americane e quindi sicuramente questa diventerà per noi una piattaforma formidabile sulla quale veicolare le nostre soluzioni software.